una maniera, una delle mille maniere che hanno questi signori per fregarli. Ferrara, Ferrara sta vicino a casa mia, 90 chilometri da casa mia. Si deve costruire, si vuole costruire una centrale a turbogas, che è una centrale elettrica che brucia metano, comunque gas naturali. Questa centrale a turbogas produce ovviamente, fra gli altri, in mille inquinanti anidride carbonica, i ferraresi si preoccupano proprio dell'anidride carbonica. E dicono ai costruttori di questa centrale, ma che cosa fai tu per evitare questo eccesso di anidride carbonica? Allora loro e i politici dicono, non vi preoccupate, abbiamo la soluzione. Qual è la soluzione? Visto che le piante mangiano l'anidride carbonica e la trasformano in ossigeno, vi piantiamo delle piante, quanto? Ah bene, cosa piantiamo? Piantiamo dei pioppi, perché il pioppo cresce in fretta e quindi diventa adulto in fretta e mangia l'anidride carbonica. Perfetto, guarda che bello, ci fate un bel doschetto di pioppi. Pioppi. La cosa va avanti così fino a che un gruppetto di ferraresi che improvvisamente si sveglia dal torpore decide di mandare una lettera, un telefax. Siamo nel 2002, quindi siamo ancora più all'epoca del telefax. All'ISP, l'ISP è praticamente l'istituto italiano che si occupa di pioppicultura e dice, noi abbiamo questo dato, questa centrale produce un po' più di 4 milioni di tonnellate l'anno di anidride carbonica. Quanti pioppi ci vogliono per mangiare questi 4 milioni di tonnellate? L'ISP fa i suoi calcoli e risponde e dice, per sottrare l'anidride carbonica prodotta dall'impianto, 4 milioni e 32 mila tonnellate, ci vogliono 407 mila ettari. I ferraresi dicono, eh, c'è andata bene, guarda che bel boschetto che ci fanno. 407 mila ettari di bosco, andiamo a fare delle belle passeggiate. Domanda, quanti ettari di pioppo ci sono in Italia? In Italia, ce ne sono 110 mila ettari, quindi occorrono 4 italie solo per mangiare l'anidride carbonica di un impianto a Ferrara. 4 italie ci vogliono, questi a pioppi. Però, chi si è accorto di questa cosa? Nessuno. Loro sono tutti contenti perché gli fanno, gli piantano 35 pioppi, l'intorno. Ce ne vogliono 407 mila ettari. Tutti contenti, perché la gente, un po' ignorante, è un po' anche frettolosa. C'è la risposta in Berlusconi, queste cose le ha capite benissimo. Soprattutto all'inizio, adesso Berlusconi si occupa d'altro, cose molto più importanti da fare. Per esempio, vedere se ha abbastanza viagra nel della credenza. All'inizio, per esempio, voi dicevate, ma quanti poveri ci sono in Italia? Poveri, sono in diminuzione del 13,76%. Numero totalmente inventato. Però la gente dice, accidente, come sa questo? Quanto, che debito abbiamo? Nessuno sta, il debito pubblico sta calando del 31,38%. Accidenti, come sa? Inventati. Ma va benissimo, perché la gente non è che voglia approfondire, vuole una risposta. Poi, se questa risposta è completamente fasura, chi se ne frega? La risposta è arrivata. La gente non vuole scocciature. C'è la partita, c'è Sanremo. Sapete che Gianni Morandi presenterà il prossimo Sanremo? Lo sapete. Eh sì, ragazzi, la RAI ci ha fatto un sacco di trasmissioni su questo. La RAI, a me, dice, ma io non ho tempo per presentare le tue cose perché i tempi televisivi sono brevi. Bene, andate a vedere tutte le litigate che fanno nei vari show, talk show. Per cui il tempo c'è, certo che il tempo c'è. E come si fa ad anestetizzarvi con le cose che dico io? Che voi magari non dormite la notte e vi mettete dei pensieri. Molto meglio, Maria De Filippi. E purtroppo abitiamo in un pianeta che è piccolo. Troppo piccolo per noi. Se tutto il mondo si comportasse come gli americani, dal punto di vista ambientale, noi avremmo bisogno già oggi di sette pianeti. sette terre per poter avere risorse e sufficienza per poterci reggere dal punto di vista ambientale. Noi siamo convinti di essere tanto bravi, tanto furbi, tanto intelligenti. Noi siamo come questo pesciolino rosso che si è messo la pinna del pesce cane, ma è un pesce rosso che vive in una boccia. Una boccia da cui, ahimè, non è in grado di scappare. E noi purtroppo stiamo mettendo la terra in queste condizioni. A tempo, a tempo, stiamo consumando. Vent'anni, vi ho detto, abbiamo distrutto più di quanto ne abbiamo fatto nei due milioni di anni precedenti. C'era questo signore, questo signore era un filosofo di pochi anni più vecchio di Galileo e che dal punto di vista filosofico ha un po' preceduto a Galileo come epistemologo, cioè come filosofo della scienza. Lui diceva, la natura si domina solo o vivendole, ed è quello che fanno tutti gli animali. Nessun animale vive contro le leggi della natura, nessuno. Dalle amebe fino alle balene. L'unico animale che voglia, che pretenda di vivere contro la natura, di dominare la natura, siamo noi. Ma la natura si fa un baffo di noi, ride, ride, e ci sta mangiando. Nel mio laboratorio, fino a che riuscirà a stare in piedi, passano tutti i giorni donne che hanno dei bambini malformati. Donne che arrivano e mi dicono, io in sette anni ho abortito quattro volte. Non ce la facciamo più, non ce la facciamo più a reggere il ritmo. Quindi, fate voi. Il problema più grosso, purtroppo, è proprio questo, è l'indifferenza. Noi facciamo finta, facciamo finta di niente, finiamo come, vedete gli struzzi? Mettono la testa sotto la sabbia e finiamo così. Perché la natura, alla natura, non interessa niente di noi. Noi siamo uno dei tanti animali, ogni anno scompaiono centinaia di specie animali, scompare un uomo. Qualcosa però si può fare, qualcosa si può fare. Noi siamo arrivati proprio al limite del baratro, ma siamo ancora in tempo, forse, forse, e si può fare prevenzione. Possiamo smettere di comportarci come ci stiamo comportando. Purtroppo ci vuole, ci vuole soltanto, per farlo, della ricerca indipendente. Purtroppo oggi il po' di ricerca che si fa, il poco di ricerca che si fa, è tutta sponsorizzata, tutta pagata per grandi aziende che giocano contro. Le ditte che fanno inceneritori, le ditte farmaceutiche che fanno farmaci non solo inutili, ma tossici. Io in questo momento sto girando da sei mesi un servizio televisivo con le iene. Io lavoro molto con le iene. E ci stiamo occupando di un vaccino, il vaccino per il cancro del collo dell'utero. E abbiamo scoperto, papilloma virus, abbiamo scoperto una cosa molto interessante, che secondo la letteratura prodotta dalla stessa ditta farmaceutica, è inutile, perfettamente inattiva. Io poi ci ho fatto, l'ho anche analizzato, e ci ho trovato dentro delle particelle di piombo, pezzi di piombo, dentro. Il produttore non è contento che noi mettiamo in rete questa cosa. E quindi sta cercando di ostacolarci in tutte le maniere. Così come da due anni sto girando con le iene un servizio su un filtro antiparticolato. E anche lì i produttori non sono molto contenti. Ma neanche i politici. Perché i politici qualche regadino poi sotto l'albero di Natale li trovano. Purtroppo, questo signore è un filosofo, un filosofo di origine spagnola, che poi abitava a Cuba, ma è morto nel 1895, quindi molto prima della rivoluzione cubana. Diceva questo, l'ignoranza uccide i popoli, bisogna uccidere l'ignoranza. E l'ignoranza come si fa ad uccidere? Eh, si uccide solo preparandosi. Studiando. Studiare costa pochissimo in termini di denaro, costa tantissimo in termini di fatica. Tanto costa. Però ripaga in una maniera incredibile. Perché una persona culturalmente preparata non la fregate. Fate molta fatica a fregarla. E purtroppo, purtroppo, noi siamo molto impreparati. Io, a me capita, non raramente, di incrociare dei neolaureati e trovare dei buchi culturali, che non sono dei buchi, sono delle voragini. E purtroppo queste voragini sono incolmabili. Perché i loro professori hanno fatto in modo che questi buchi siano incolmabili. Gli hanno distrutto la capacità critica. Non solo gli hanno dato delle nozioni sbagliate, ma li hanno resi acritici. E questo è un problema molto grande.